Come sempre iniziamo il nostro nuovo appuntamento con i giornali TV, ben ritrovati da Pasquale con le notizie che arrivano dalla nostra regione partendo da Gazzetta del Sud Online dove leggiamo come prima notizia sulla Omo di un incendio che c'è stato in una libreria alla Mezzaterme in via Carducci, un incendio probabilmente causato da un cortocircuito. L'intervento dei vigili del fuoco è ovviamente valso alla completa estinzione delle fiamme evitando il propagarsi del fuoco ai locali adiacenti. Tutto questo è accaduto in una libreria del centro della Mezzaterme in via Carducci, probabilmente è stato un cortocircuito. Sempre su Gazzetta del Sud scorriamo la Omo, leggiamo che a Vibo arrivano nuove biciclette ma non esistono piste ciclabili, bike sharing 70 mila euro per comprare altre mobibike, le attuali ferme e vandalizzate. L'assessore Bruni le realizzeremo dopo e nessuno salta in sella, scrive Gazzetta del Sud. Poi andiamo a Catanzaro, parliamo di sanità, poliambulatori e malattie infettive a Catanzaro, una progettazione antisismica è a una svolta. Il commissario Carbone approva il quadro di fattibilità tecnica e economica per i lavori al Pugliese. Gli interventi finanziati con i PNRR superano di poco quei 4 milioni di euro. L'incremento dei costi dei materiali ha richiesto una integrazione di risorse. Questo sempre su Gazzetta del Sud online, poi restando sempre a Catanzaro, biblioteca, trasporti e trasparenza, le priorità per gli studenti dell'Università Magna Grecia di Catanzaro, i servizi da migliorare per rendere la città in misura di universitario. Le associazioni Artù ed Eureka, tutte le facoltà, tornino al campus. Crotone, l'ASPA, scelera per l'emodinamica, sia i macchinari ai lavori per la sala. In chiesta a Secreta Collis, il clan dei Gaglianesi torna a fare paura. Poi maltempo, il ministro Musumeci annuncia fondi per le emergenze, oltre 15 milioni di euro per la Calabria. Poi riforma sull'autonomia, il sindaco di Catanzaro senza mezze misure, un disastro. Poi a Vibo Valencia, minacce di morte e schiaffi a un'infermiera, ai domiciliari, Michele Lobbianco. Alla mezza è stato arrestato un 51enne, nascondeva un'arma nel forno. Poi elezioni al Consiglio provinciale di Crotone, i leader locali vanno alla conta. A Vibo c'è stato un cortocircuito nella comunicazione e alcune scuole sono rimaste al buio. Questo era appunto su Gazzetta del Sud online, che come sempre ha dato il via al nostro nuovo appuntamento con i giornali TV. Sul lamettino.it, anche qui l'incendio in una libreria del centro di Lamezia, in via Carducci, intervengono i vigili del fuoco e i carabinieri. Sempre a Lamezia, controlli speciali dei carabinieri in centro per contrastare reati contro il patrimonio. Anche qui sullamettino.it Lamezia nascondeva un'arma clandestina in un forno elettrico, è stato arrestato un 51enne. Passiamo ad un'altra notizia, è un episodio incredibile. Un genitore che prende a schiaffi un dirigente scolastico, un preside a Cosenze, ed è stato denunciato. Ricordiamo la tragedia che ha purtroppo coinvolto anche una ragazza di origini calabrese, un'auto che è finita nel lago di Como nei giorni scorsi, dopo i funerali a Cantù, la sepoltura in Calabria per Tiziana Tozzo, una delle due vittime. Alla Lamezia, stabilità finanziaria. Il Comune ottiene parere favorevole dalla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali del Ministero dell'Interno, quindi c'è il via libera per nuove assunzioni al Comune di Lamezia Terme. Poi Tedesco della CSA Cisal, i lavoratori pendolari al freddo, ripristinare la fermata autobus nell'area interna della cittadella. Sempre a Lamezia, parte la terza edizione del concorso giovanilmente dell'Associazione Italiana Parchi Culturali, sezione di Lamezia. Altra notizia, Tauria Nova, unica città calabrese candidata a capitale del libro del 2024. C'è l'avvertenza della Nexit elettronica di Mangone che è in crisi, c'è il rischio chiusura, è ancora campionato pasticceria a Botricello, terzo posto e possibilità ripescaggio per Istituto Einaudi di Lamezia Terme, un parroco aggredito nel Regino, ricoverato per lesioni. Area Zess, il commissario annuncia un investimento di 20 milioni di Euro per la videosorveglianza nelle zone economiche speciali, tra cui l'area industriale di Lamezia Terme. Perché? Perché questo aspetto della videosorveglianza nell'area industriale di Lamezia Terme è riemerso in quanto ci sono stati degli spari all'azienda Callipo di San Pietro Lamettino, dell'area industriale di Lamezia Terme e l'imprenditore Callipo ha denunciato che non funzionano le telecamere della videosorveglianza all'area industriale di Lamezia Terme, per cui dopo questa denuncia, questa segnalazione, dopo questa segnalazione dell'imprenditore Callipo, adesso è intervenuta la Zess Calabria, la zona economica speciale, precisando che ci sono dei fondi che sono stati investiti dei fondi per le videosorveglianze in tutte le zone economiche speciali, in questo caso della Calabria, in questo caso l'area industriale di Lamezia Terme che fa parte dell'area Zess della Calabria, dicendo che c'è questo finanziamento. Già a settembre scorso, come si ricorderà, la zona economica speciale della Calabria aveva annunciato che c'erano fondi destinati alla videosorveglianza, c'è stato il bando, l'appalto e pare che questo appalto ora sia in via di aggiudicazione. Andiamo dunque a leggere un'altra notizia che riguarda i dati del Gimbe. In Calabria nel 2021 sono stati spesi 289 milioni per la mobilità nella sanità. Poi politica, coesione Calabria, da Regione un piano straordinario per oltre 200 assunzioni. La Lega annuncia che è stato sbloccato il progetto di ammodernamento del tratto A2 dell'autostrada tra Cosenza e Altilia. E ancora fondo contrasto disturbi nutrizione e alimentazione, il gruppo PD Calabria presenta una mozione per rifinanziarlo. E ancora cancellati i fondi per il Sud, il CNA Calabria, da politica e istituzioni partano misure per il rilancio manifatturiero. E ancora l'Unione Europea stanzia 120 milioni alla SACAL, sostegno per nuovi voli anche per l'aeroporto di La Mezzaterme. Un'altra notizia di Cronaca, accoltellò un coetaneo fuori da una discoteca a Capodanno, è stato arrestato un 18enne a Cetraro. La compagnia E-Transat presenta collegamenti diretti tra l'Italia e il Canada. Dalla Mezzia c'è un volo alla settimana per Toronto, appunto per il Canada. Parliamo di Alzheimer, l'associazione Raggi Attiva, mai senza un caffè online. Incontri di sostegno psicologico per i familiari delle persone, appunto per i familiari che appunto hanno, per le persone che sono affette da Alzheimer. Questo era appunto sul lamettino.it. Proseguiamo dopo Gazzetta del Sud Online e lamettino.it, proseguiamo con l'edizione Calabria del Quotidiano del Sud. Una notizia che arriva da Sellia Marina. Cantiere ancora fermo, la scuola rischia di perdere i fondi, i lavori affidati a una ditta accusata di vicinanza ai clan. La Prefettura di Roma non chiarisce i dubbi. Ritorno a Rosarno, la vita dei braccianti tra fango e baracche, oltre 1700 migranti per raccogliere arance e mandarini, come ai tempi della rivolta. Un giorno di ordinaria violenza, vieta le strette di mano in chiesa e un parroco è stato aggredito e malmenato a Varapodio. Non gradite le precauzioni anti-Covid durante una messa in suffragio. E a Cosenza, un preside schiaffeggiato dal padre di uno studente, interviene il ministro. Per quanto riguarda la legge sull'autonomia differenziata, 200 sindaci contro la riforma. Il primo firmatario è Nicola Fiorida, sindaco di Catanzaro. A Catanzaro, Lampi mobilita il fronte del no. Sanità, pazienti in fuga in cerca di cure, regioni del nord sempre più ricche. Sanità, crisi di personale, la proposta per salvare l'elisoccorso. La lettera alla Macri, nelle aree interne la realtà e la tristezza che ci attende. Crotone, antica Croton, il consiglio discute ma non vota. Poi associazioni a Vibo, Pungolano, Lasp sui posti letto, guardie mediche, servizi. A Reggio Calabria, le delega ai nuovi assessori e la sconfitta del PD. Poi a Catanzaro, autonomia differenziata. La città nella piazza virtuale per il no. A Crotone, intimidazione a un altro dipendente dell'azienda romano. Poi vertenza an exit elettronica, è stato ottenuto un incontro alla regione. Capitale del libro, Tauria Nova, finalista, candidata alla capitale del libro 2024. All'interno delle pagine del quotidiano del sud, delle elezioni negli Stati Uniti. Trump stravince nella Iowa. Delusione Hailey. Per l'ex Presidente risultato schiacciante sugli altri candidati repubblicani. Poi in Medio Oriente siamo al tutti contro tutti, purtroppo ancora. Misser Iran contro il Pakistan. Poi ancora nodo politico dietro il rinvio sull'Election Day. Lo scoglio sarebbe legato al terzo mandato per i sindaci. Poi politica inizia la battaglia sull'autonomia. Slain spacca il paese che deve invece essere ricucito. Poi andiamo al caso Messina Denaro. Dalle indagini alla svolta dopo 30 anni. Un anno fa l'arresto dell'attitante stragista. Ritorno a Rosarno tra fango e baracca e la vita dei braccianti. Nella piana poco è cambiato rispetto a 15 anni fa. Oltre 1700 migranti per raccogliere arance e mandarini, come ai tempi della rivolta. Mauriz in bicicletta sotto la pioggia. Abbiamo queste persone, abitano in Tuguri. Ci si scalda col fuoco. Quindi non è cambiato nulla nelle baracchie, nella tendopoli di Rosarno. Calabria violenta, dicevamo, il parroco di Varapodio aggredito dopo la messa, minacce e schiaffi a un preside. Poi accoltellamento in discoteca, a Bervedere Marittima. C'è stato un arresto. È ancora da Catanzaro il fronte del no per la legge sull'autonomia differenziata. Il cosiddetto disegno di legge Calderoli, che è in discussione al Senato, rischia di riaprire ferite mai rimarginate. Iniziativa dell'Associazione Nazionale Partigiane d'Italia con il Presidente Nazionale Pagliarulo. Poi un dovere essere contro la riforma. Il primo cittadino di Catanzaro e tra i promotori. Redatto un documento sottoscritto da 200 sindaci. E poi sanità, anche l'elisoccorso in crisi di personale. In Calabria ovviamente. La proposta di modifica della legge regionale sulle prestazioni aggiuntive. Nel frattempo Azienda Zero chiama infermieri fuori regione per i 118. Al Policlinico di Germaneto il macchinario per la petta ha 20 anni ed è quasi sempre quasto. La fuga dei calabresi per le cure sanitarie. La Calabria agli ultimi posti, 252,2 milioni verso le regioni del nord. La denuncia di Gimbe. L'autonomia renderà ancora più ampio il gap, scrive il quotidiano del sud. Da Selia Marina un cantiere fermo con fondi a rischio, lo avevamo già detto. Estradizione negata per Greco. Decisione della Cassazione francese. L'attentante fu presa a Lione dopo 18 anni. Su Catanzaro autonomia differenziata. Il momento dell'impegno. Palai a Buccoleri, Caviana e Bosco con Fiorita. Longo l'Istuzzica. Ampia mobilitazione sul tema che apre il dibattito sull'autonomia differenziata. Andiamo ora a Lamezia Terme. Assunzioni. Finalmente il via libera per le assunzioni al comune di Lamezia. Per il sindaco si potrà ora immediatamente procedere a 16 assunzioni a tempo interterminato. Dopo lo stoppo di dicembre la commissione di stabilità finanziaria per gli enti locali autorizza il piano del personale del comune di Lamezia per 16 assunzioni. Ricordiamo che il quotidiano leggiamo che dopo Giorgia Gargano si è dimessa anche l'assessore Teresa Bambara. Quella continua fuga di assessori con Mascaro Sindaco. Quindi l'aggiunta ora è senza due assessori. Una 7,65 nel forno elettrico. Oltre la pistola trovati anche 97 cartucce dello stesso calibro. Un'arma perfettamente funzionante è in carcere finito un 51enne Lametino. Andiamo a Pianopoli. Sono stati richiesti tre funzionari per il comune di Pianopoli. L'amministrazione comunale di Pianopoli ha deliberato di aderire alla manifestazione di interesse, quindi un'istanza di finanziamento per garantire l'assunzione del personale. Parliamo di teatro. Risate sold out con Vacantiando. Sabato ci sarà un altro spettacolo al Teatro Gandinetti con la commedia Caino, se fatto prete, dopo il successo del duo I soldi spicci. Progetto up al civico trame ci sarà il docente youtuber saudino che ha più di 306 mila iscritti al suo canale YouTube. Associazione nazionale della Polizia di Stato, sezione della mezza terme. Mancarella è stato nominato coordinatore regionale. A Carlopoli l'Arcimboldo d'Oro alla pizzaiola di Carlopoli Spilotro, Filomena Spilotro. La ripartizione dei fondi dello Stato, la storia appunto dei fondi per il sud d'Italia. Questa storia viene raccontata in un libro che sarà presentato alla mezza terme lunedì 22 gennaio alle ore 18 presso il Palazzo Greco Stella di la mezza terme. Andiamo a Crotone, l'assise discute dell'antica Croton, ma non vota. Poi andiamo a Reggio Calabria, da bene confiscato ad alloggi popolari e quindi un bene confiscato ora sarà rimodulato e saranno destinati alloggi popolari, questo a Reggio Calabria. A Vibo Valenza, Sanità, servono chiarimenti sui posti letto, guardie mediche, bilanci e servizi, le richieste dell'associazione ai vertici dell'azienda sanitaria provinciale di Vibo. Provincia di Vibo, la provincia è stata condannata a pagare la vicenda rota attorno ai lavori al fosso Calzone. La somma è di 158 mila euro, al porto wireless free per i turisti, ecco la convenzione con Ministero, al porto di Vibo Marina. Poi l'indagine, in 13 rischiano il processo per un presunto smaltimento illecito di rifiuti a Vibo. Poi a Tropea, meravigliosamente ancora Natale, unanimi consensi per il suggestivo presepe vivente, inscenato nel piazzale dell'annunziata di Tropea. Pizzo, il gruppo domani e oggi, la nostra posizione è incisiva, critiche all'amministrazione comunale di Pizzo, questo era sempre sul quotidiano del sud, nelle pagine di Vibo e del Vibonese. Dicevamo di Taurianova, capitale del libro, Taurianova finalista, città in gara per il 2024, il 31 gennaio le audizioni, a febbraio ci sarà il risponso. E poi il politico, il grafico, lo scrittore, un racconto dei fratelli Ruffolo. Lucy Stranges, poetessa del Reventino, i racconti di luogo e persone per mantenere viva la memoria del borgo di Conflenti. Top Jets 2023 a Federica Michi Santi, i premi musicista, disco e formazione dell'anno. Questo era sempre sul quotidiano del sud, come sempre ci torneremo in conclusione del nostro appuntamento sulle pagine, torneremo sulle pagine del quotidiano del sud, quando in conclusione andremo a dare spazio alle notizie che riguardano lo sport. Ma prima di arrivare allo sport, come sempre passiamo anche oggi in rassegna i principali titoli dei quotidiani nazionali oggi in edicola. Quindi nella nostra edicola digitale partiamo come sempre dal Corriere della Sera. Zaia ha bloccato sul fine vita il Presidente della Regione Veneto. La Repubblica Barbera va difeso il pluralismo della Corte intervista al Presidente della Consulta, cioè della Corte Costituzionale. Anche su Repubblica Trump scuote l'America, Poi la stampa, Calderone, riapriamo il cantiere pensioni, Gaza, l'Iran sfida gli Stati Uniti. Sul Libero, Lucarelli e Ferragni, ballando fra i PM. Il giornale, ora l'Italia rischia di incagliarsi nel Mar Rosso. Il fatto quotidiano, Meloni e Salvini litigano pure sulla data del voto. La verità, l'eredità avvelenata di Speranza, piano gendere per i bimbi a scuola. Il tempo così viene giù tutto. Roc al Circo Massimo a Roma. Il messaggero Ilva, decreto per il Commissario. Domani troppe scappatoie sulle pensioni, allarme per le riforme del governo. L'unità patrimoniale, se i ricchi prendono i soldi ai poveri, è giusta. Scrive il quotidiano L'unità, secondo cui sulla patrimoniale, se i ricchi prendono i soldi ai poveri, la patrimoniale è giusta. Scrive l'unità. Poi il sole 24 ore. Partite IVA. Per quelle bocciate dal fisco, il reddito medio dichiarato è di 23.530 euro. E poi anche qui su Trump, il riformista, una foto, rieccolo. Il manifesto, anche titolo, fa lo stesso titolo, il manifesto del riformista, rieccolo con la foto di Trump. Poi il gazzettino, fine vita, bocciata la legge, il mattino, lavori PNRR, avviso ai sindaci. Il dubbio, prescrizione, primo sì, il PD, il CSM non vuole. Il secolo XIX per il va tutto da rifare. Poi l'avvenire, la fede nel mirino, la notizia, a centro pagina, migliaia di studenti lasciati al gelo in classe, le nostre scuole cadono a pezzi mentre buttiamo miliardi per le armi. Sul leggo, sanità per curarsi, si va al nord. Il resto del Carlino, fine vita, zaia fermato dal fuoco amico. Poi su metro, bufera selvaggia, a proposito di selvaggia Lucarelli, l'opinione, Trump parte con il turbo, il quotidiano del sud, l'altra voce dell'Italia, fermate l'inganno dell'autonomia, la discussione, PNRR, Meloni, impegno straordinario del governo. Bene, queste erano le prime pagine dei quotidiani nazionali, titoli principali, l'edicola digitale, continuiamo con l'edicola digitale, con le pagine dello sport, dei quotidiani sportivi, la gazzetta dello sport, De Rossi, la mia Roma, che Murigny è stato esonerato, al suo posto la Roma ha chiamato De Rossi, già appunto calciatore della Roma. Mago Vlaovic, la Juve batte 3-0 il Sassuolo, doppietta di Vlaovic e torna a meno 2 dall'Inter. Anche il Corriere dello Sport titola Mago Vlaovic, la Juve ci crede, Sassuolo KO 3-0, Allegri a meno 2 dall'Inter, anche qui Ribalt 1, riferimento per l'esonero a Murigny, esonerato Murigny, la Roma ha De Rossi, capitale sotto shock, Friedkin, il proprietario della Roma, caccia il tecnico delle due Euro finali, poi De Laurentiis, Ngonge e altri due, quindi nuovi acquisti per il Napoli, tutto sport, tutti in piedi, Vlaovic, doppietta da standing ovation, 3-0 a Sassuolo, Juve in corsia di sorpasso, evidentemente all'Inter, di spalla ancora su tutto sport, Murigny dai titoli agli esoneri e 5, De Rossi Roma ci vuole cuore, quindi quinto esonero per Murigny, il quotidiano sportivo QS Murigny è special anche l'addio, scrive appunto il QS quotidiano sportivo, anche sullo quotidiano del sud, addio Murigny, ora c'è De Rossi, svolta epocale nella Roma, al posto dello special one arriva l'ultima bandiera, felice il nuovo allenatore giallorosso, per me è un'emozione indescrivibile, il club con lui leadership è ambizione, la Juvenzo vince e resta a meno 2 dall'Inter, doppietta di Vlaovic e gol di Chiesa, battuto il Sassuolo, anche qui mercato, il Napoli chiede in gonge, scrive appunto il quotidiano del sud. Andiamo alla serie B, il Catanzaro riabbraccia Veroli, circa 2000 tifosi al seguito dei giallorossi per la gara con la Feralpi Salò, l'esterno Punto Veroli è sulla via del recupero, mercato si lavora per chiudere con Antoninni, poi serie C, Crotone, Panniteri si trasferisce alla Provercelli, la squadra continua a prepararsi per la sfida con la Virtus Franca Villa. Poi sempre in serie B, questa volta leggiamo del Cosenza, ora serve un'impresa contro il Venezia, l'imperativo è quello di tentare la vittoria di prestigio a tutti i costi, Forte e Marson di nuovo in gruppo, differenziato per Meroni e Canotto, serie D, Reggio Calabria, l'infermeria è piena, tante difficoltà per Trocini, troppi cambi di sede per gli allenamenti, sempre in serie D, la Vibonese tenta il blitz in Sicilia, si gioca a Ragusa, ma sullo sfondo c'è il prossimo big match con la capolista, Boucher convoca 21 calciatori, da non esclude l'impiego di Favetta dall'inizio, poi San Luca, uno scontro salvezze che non si può proprio steccare al Corrado, a Vara, arriva l'Igia Vizzi, Locri in casa del Portici, una sfida che vale doppio, Castrovillari contro il Trapani per tentare la grande impresa, questo era sempre sullo sport del quotidiano del Sud, poi abbiamo un'altra notizia che riguarda lo sport, Australian Open, record di Azzurri, al secondo turno accedono in nove, quindi all'Australian Open, quindi ben nove italiani che accedono al secondo turno agli Australian Open di tennis, fra questi c'è anche Yannick Sinner, quindi nove in pagella e forse vista la prestazione resta rammarico per un dieci che sarebbe stato con la lode, quindi si è rischiato appunto, tra virgolette, rischiato di avere anche dieci italiani al secondo turno degli Australian Open di tennis, quindi al secondo atto del primo slam della stagione in corso sul cemento di Melbourne Park, c'è stato il debutto con la vittoria di Lorenzo Sonego, Giuliano Zepperi, quindi queste sono notizie importanti per il tennis italiano. Con il tennis e quindi con lo sport abbiamo concluso anche per quest'oggi il nostro nuovo appuntamento con i giornali in TV, come sempre ogni giorno con voi sui canali 98 e 112 del Digitale Terrestre di STV. Come sempre è tutto da Pasqualino Rettura, grazie per l'attenzione, grazie per averci seguito fin qui e con i giornali in TV e vi diamo appuntamento alla prossima edizione.